Maestro Giovanni Caruso eseguì la nuova, un brano del primo posto, in variazioni sulle loro attività. Maestro Giovanni Caruso, all'onorese, maestro procuratore del coro di M.S., il brano è stato composto recentemente e adattato a mettere in mostro verso un'unità di registri di tronco, gli origanti e i rifiuti dell'ordine dell'angelo che sono. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.